Dai classici minni ai vari supereroi, all'attuale Fleximan. Fleximan ormai è conosciuto in tutto il mondo. Sono stati molti i costumi visti nel martedì grasso a San Giovanni Valdarno, una tradizione, quella del carnevale, che nella cittadina è presente da molti decenni e che non smette di attrarre piccoli e adulti. Il carnevale è bello sempre, non c'è età per vestirsi, l'ha detto bene. Però io sono qui con la signora, ho questo bambino da dargli mangiare, ho portato il tutto, però ora mi ha fatto la caca e non lo posso usare tanto. Un'organizzazione fatta da tanti appassionati, che costruiscono e riparano carri, ma che necessitano di un ricambio generazionale. Stasera è il clou di tutta una fatica, è durata un anno, di tutti questi volontari che io non posso che ringraziare per arrivare a costruire certi carri che poi fanno l'orgoglio di San Giovanni. Come volontari non siamo tanti, siamo pochi, il grosso problema è che siamo tutti anziani. Se qualcun giovane volesse venire a darci mano, noi si accetta, è ben accetto. Anche la sindaca questo pomeriggio si è divertita a stare al gioco del carnevale in centro. Oggi questa tradizione è tenuta in piedi, grazie, ci tengo a sottolinearlo, la società del carnevale san Giovannese fatta di volontari e che voglio ringraziare proprio perché anche quest'anno hanno realizzato dei bellissimi carri tra l'allegria, l'ironia, la prestazione in giro, che sono poi tutte caratteristiche tipiche del carnevale. E poi la prologo, perché noi abbiamo anche, come Sanremo, rigorosamente un dopo sfilata di carnevale perché dalle 17.30 in Piazza Capurci sarà un'animazione importantissima. Quindi grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato. Carnevale però messo alla prova da un'altra festa, quella di Halloween, che con il carnevale condivide il travestimento ma nulla tradizione. I bambini però sembra che prediligano sempre di più la festa arrivata da oltreoceano. Piace più Halloween o il carnevale? Halloween. Halloween. Poi ci sono come sempre e per fortuna delle eccezioni. Carnevale. Grazie. Grazie.